Ci troviamo al comunale di Rapino, sesta giornata di andata del campionato di seconda categoria Gironè tra il Rapino Calcio con maglia nero-verde e la Virtus Castelfrentano con maglia classica giallo-rossa. Agli ordini dell'arbitro della sezione Aglia di Lanciano faranno il loro ingresso in campo adesso, si stanno preparando per le entrate in campo, pioviccica, non era previsto la pioggia, la Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallo-rossa, nuova di questa stagione, la nuova maglia 2017-2018 stagione calcistica, sponsor alimentari, l'alimentare Conad di Castelfrentano. Il nostro Matteo, il sponsor, ecco fanno i loro ingressi in campo per la sesta giornata di campionato, seconda categoria, girone e sesta giornata di andata. guardiamo il pubblico e le varie panchine, pubblico nutrito, c'è la scelta del campo del pallone, il saluto al pubblico, ci salutano i nostri compagini pronti per l'inizio della gara alle 15.30, vanno a salutare le panchine avversarie, ecco salutano, forza in bocca al lupo che venga il migliore, ecco la panchina, la nostra nuttiva panchina, posto in bocca al lupo, abbiamo come collaboratore di linea c'è il nostro cocciolone, Domenico Campitelli, là in punto, il pubblico, ecco c'è il mister Gabriele in tribuna con gli amici di Rapino dove siamo stati a pranzo oggi, inizio della gara, inizio della gara.